Una serie di risposte a breve termine ma anche a lungo termine avete già fissato un incontro per la settimana prossima in cui si parlerà di interventi probabilmente più sostanziosi. Sì, il sindaco tedesco intende sicuramente accompagnare ACEA in regione sulla questione dello svuotamento di Lasco del Falegname. Da quello che ci dicono sempre i dirigenti ACEA è un'opera che loro vogliono fare, non dobbiamo aspettare la conferenza come qualcuno diceva di aprile, è un'opera che si potrebbe fare quanto prima. Parliamo di un bacino che oggi è tutto sedimento, c'è poca possibilità, di buono c'è poco, non so ora in metri, in millimetri quanto ce ne sarà, perché comunque io credo pochissimo cari amici di Civitavecchia, abbiamo un bacino ormai pieno di quelle che sono ormai i resti di tanti anni che il Mignone ha portato in questo Lasco, in questo invaso. Lo svuotamento sarà determinante e è una voglia che il sindaco ha in sé e noi cerchiamo di rispettare le sue richieste perché tanti cittadini, tanti tecnici vanno al nostro sindaco a parlare di acqua. Ecco questa è la materia più importante che questa amministrazione ha inteso subito prendere come il toro per le corna. Io sono convinto che insieme con una delegazione di esperti funzionari che abbiamo nel nostro comune, parliamo di gente che hanno 40 anni di conoscenza del nostro acquedotto, e gli esperti di ACEA che poi hanno i soldi per intervenire subito, con questo connubio sono convinto che cari amici di Civitavecchia, e questa è l'informazione che vengo a dare per il sindaco che oggi è impegnato fuori, riusciremo a vincere questa battaglia. Con gli sforzi di tutti e soprattutto di tutta la politica perché i passi avanti che hanno fatto anche quelli che sono arrivati prima di noi, noi non li andiamo a denigrare, cerchiamo solo di fare di più perché crediamo che la politica debba fare un passo in avanti. E oggi forse si potrà mettere fine, da qui a qualche tempo, alla parola Carvario Cittadino. Carvario Cittadino